Ben trovati le notizie di oggi giovedì 27 di giugno. I carabinieri della compagnia di Senegallia la sera del 25 hanno arrestato per estorsioni aggravate e continuate in concorso in flagranza di reato i coniugi Antonio Chiarizia e Loredana Caruso nonché per il medesimo reato hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto Francesco Annibaldi. L'assessore regionale alle infrastrutture Paola Giorgi ha incontrato ieri mattina il direttore generale del consorzio SAMAC ditta che esegui lavori di ampliamento sulla 14 ancora nord Senegallia. Attivare in tempi rapidi la soluzione di una problematica tra stazione appaltante e ditta che ha causato l'interruzione dei lavori e richiesta di risoluzione del contratto da parte di SAMAC che stanno producendo un preoccupante ritardo nel completamento dell'opera ma soprattutto gravi ricadute sui lavoratori e sulle imprese sub appaltatrici e fornitrici. 100 giorni di mare sicuro, vediamo. CNA, Confcommercio e Associazione Albergatori di Senigallia hanno messo in piedi un progetto legato alla sicurezza sul lungomare denominato 100 giorni di mare sicuro. Le attività del lungomare di Senigallia, che sono ben 400 partite IVA, molti di questi hanno deciso di mettersi insieme per sviluppare un progetto che volge potenziare la sicurezza nel lungomare contro atti vandalici, tentati furti o atti di micro criminalità. Le attività per l'nessia volta si rimboccano le maniche, ci mettono del loro per potenziare quella che è già l'ottima attività di interdizione a questi atti vandalici che svolgono i servizi di pubblica sicurezza. La CNA su questo crede molto, il nostro partner è Fitist, Fitist Security, l'istituto di vigilanza col quale già portiamo avanti altri progetti, la Cesanella e il Centro Storico. In questa occasione, insieme alla Assozione Albergatori, che anche essa ha sposato con grande convinzione questo progetto della Confcommercio, porteremo un ulteriore contributo per coprire un altro lembo della città, questa è la fascia costiera, che purtroppo durante il periodo estivo è particolarmente colpito da fatti lesivi, sia alla proprietà privata ma soprattutto a tutela anche dei loro clienti. Al fine di garantire un semplice e migliore decoro del Centro Storico della città, l'amministrazione comunale in accordo con il Consorzio CIR33 ha deciso di apportare alcune modifiche al servizio di igiene urbana per le utenze ubicate nella zona a traffico limitato. Dal primo di luglio la raccolta porta a porta dei rifiuti sarà effettuata in orario mattutino e non più durante il pomeriggio. Pertanto i propri contenitori dovranno essere esposti sul suolo pubblico tra le 7 e le 9 del giorno previsto dal calendario attualmente in vigore. 10.000 passi per stare bene, il servizio. 10.000 passi per stare bene, camminate su percorsi all'aria aperta con arrivo e partenza dai centri commerciali. Appuntamento con cadenza settimanale sotto la guida di un walking leader su un percorso variabile tra i 4 e i 6 chilometri in funzione della location, del gruppo e delle condizioni. Un'iniziativa per promuovere il benessere consolidando il legame con il territorio. Perché 10.000 passi? Perché significa circa due ore di camminata, quello che consigliano i medici per il nostro benessere. Benessere non solo fisico ma anche alimentare, distribuiremo anche delle brochure informative sugli alimenti, come mangiare bene ma anche stare insieme in mezzo alla natura. È un nostro modo per portare avanti attività legate al sociale, al territorio, alla salute. Un po' come qualche anno fa nacque proprio da Senigallia il Giro d'Italia a nuoto grazie alla collaborazione con la WISP, da oggi partiamo per camminare insieme a andare lontano. L'attività che proporremo è camminata di Nordy Walking, quindi con i bastoncini, in italiano camminata nordica e molte persone possono partecipare a questa pratica sportiva in quanto non è stressante per l'apparato muscolare e osteoarticolare. Quindi anche diciamo svariate gambe di età, atleti, meno atleti e soprattutto l'attività è in gruppo, in compagnia e quindi molto trainante. La Scuola di Pace Vincenzo Buccelletti del Comune di Senigallia, giunta alla conclusione del suo diciottesimo anno di attività, organizza un breve convegno con l'obiettivo di fare un bilancio dell'attività svolta. L'incontro si terrà sabato 6 luglio dalle 9 alle 13 presso la sede della Scuola di Pace in via Marchietti 73 e sarà coordinato dal professor Sergio Labate dell'Università di Macerata, membro del Comitato Scientifico della Scuola di Pace. È tutto anche per oggi, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento all'edizione di domani.